La cantante protagonista della 23esima edizione di Amici, Martina Giovannini, si racconta ai microfoni di Dimmi di Te e svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Martina Giovannini è stata una delle cantanti più apprezzate della 23esima edizione di Amici. Ospite dell'ultima puntata del fortunato podcast Dimmi di Te, l'ex allieva di Anna Pettinelli ha ricordato la sua intensa esperienza nel talent show di Maria De Filippi e rotto il silenzio sulla sua attuale situazione sentimentale. La verità di Martina dopo Amici 23, a distanza di alcuni mesi dalla finale di Amici 23, che ha visto trionfare Sara Toscano, Martina Giovannini si è raccontata a cuore aperto ai microfoni di Dimmi di Te. Intervistata da Lorella Cuccarini, la giovane cantante ed ex allieva della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, ha dichiarato. Quando sono entrata e mi hanno dato il banco ero molto spaisata. Tutto mi aspettavo tranne di entrare nella scuola. Ho detto proviamoci ed è andata bene. Ero spaventata, era tutto più grande di me.Ci ho messo un po' a sbloccarmi con gli altri e sul palco. Sono molto riservata quindi era un po' difficile per me. Maria mi ha aiutato tantissimo in questo. Sia per lo staging che per la mia timidezza. Mi diceva sempre che dovevo parlare ed esprimere il mio pensiero. Non ero abituata a vedere il pubblico a 360 gradi. La parte più bella era quando andavamo a fare le prove con le coreografie e scenografie. Martina ha poi parlato della sua eliminazione dal serale, che ha spiazzato e fatto storcere il naso alla maggior parte dei telespettatori di Canale 5. A tal proposito, la cantante di Amici 23 ha ammesso. Non pensavo di ricevere fuori così tanto affetto e sostegno. Mi fa strano ancora oggi incontrare le persone e ricevere tanti complimenti. La cosa più bella per me è quando mi dicono che attraverso la mia musica e la voce sono riuscita ad arrivare. Io mi sento davvero arricchita sia a livello artistico che personale. Non capita tutti i giorni di convivere con altre 20 persone. Ho capito di avere tanta pazienza, ride e ne di erre. Martina Giovannini e l'amore. Chiuso il capitolo Amici 23, un'esperienza che l'ha profondamente cambiata sia artisticamente che umanamente, Martina Giovannini ha parlato dell'amore. Interpellata da Lorella Cuccarini sulla sua vita sentimentale, la bravissima e talentuosa cantante del talent show di Maria De Filippi, che era anche finita al centro del gossip per la sua amicizia speciale con Kumo, ha confessato. Se c'è spazio per l'amore? Non ne ho idea. In questo momento sto pensando a me stessa, quindi non so se ci sarà spazio proprio nella mia testa. È un impegno di tempo e a livello mentale. A meno che non incontro qualcuno e scocca la scintilla.